Oggi vi porto la recensione di una borraccia termica. Una borraccia termica in acciaio. Allora, in pratica da anni volevo provare le borracce termiche perché le vedo spesso utilizzare ad esempio dai ragazzi che vanno in università o a scuola o anche dalle persone che vanno al lavoro. E fra le varie che ho visto anche sui negozi o online, alla fine ho voluto scegliere questa qua, della Leonardo. Poi vedrete il B-roll che ho girato quest'oggi con questa borraccia. Allora, la borraccia è una borraccia termica e mi sembra molto molto buona, da 500 millilitri. È una borraccia in acciaio inox, anche il tap in acciaio inox, quindi non ci sono perdite. Io l'ho presa in questa bella colorazione viola. È particolare anche il disegno e il logo, perché sono anche in rilievo e sono molto carini. Come vedete sono in grigio. La borraccia è anche abbastanza leggera, è robusta e ha un bel grip. L'ho provato anche a mettere nel porta borracce della bici ed entra correttamente. Queste borracce sono comode perché possono essere usate sia per metterci dentro il latte, il caffè caldo, l'acqua, il tè. Quindi le potete usare per qualsiasi uso che vogliate farne. Appunto per portarvele a scuola, per portarle sul treno, per portarle in viaggio ed è una buona una buona borraccia. Ho preso anche su Amazon e vi lascio il link in descrizione per andare a comprarle. Ho preso, oltre alla borraccia, anche la sua custodia, diciamo, in neoprene e questa può essere utile, ad esempio, nelle giornate invernali o anche d'estate, se volete mantenere ancora un po' di più la temperatura della borraccia, dell'acqua dentro la borraccia. È abbastanza facile inserirla dentro e poi si presenta in questo modo. Ha anche un laccetto per il trasporto che quindi la rende anche abbastanza comoda per essere appunto trasportata. e anche il bere da questa borraccia mi sembra abbastanza comodo anche perché è anche abbastanza largo. Poi sinceramente l'acciaio inox non dà per niente fastidio e mi sembra quindi una buona una buona bottiglia. Quindi, che dire, la proverò sicuramente per andare al lavoro, la proverò per fare quando faccio sport anche in palestra o anche in punto in bici e oggi l'ho portata con me al parco per fare queste prove e il video che vedrete fra poco. Quindi, che dire, provate anche voi una di queste borracce termiche, magari proprio questa qua della Leonardo perché mi sembrano abbastanza buone. Vi lascio tutti i link in descrizione. Alla prossima ragazzi, ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.